Assolutamente orgogliosi di avere nuovamente dopo 33 anni una squadra di serie A2 di pallavolo in regione Abruzzo. Siamo tutti in attesa del debutto, quindi aspettiamo tutti domenica 8 ottobre per il debutto per il campionato della Serdeco Volley. Faccio i complimenti al presidente Simone De Collibus, al vicepresidente Carmela Ortoli, in bocca al lupo alla squadra, al suo mister Bosica e al capitano Emma Falcone per tutti i giocatori. È un obiettivo che lo stavamo cercando ormai da un anno, l'abbiamo raggiunto, ha passione tanta, il desiderio di confrontarsi ancora di più. Una squadra giovane, con esperienza comunque, con tanti valori, vengono da tutta Italia e abbiamo anche due straniere, una serba e una croata, quindi una squadra pronta a tutto. A nome mio e di tutta la squadra voglio ringraziare questa società che ci riempie noi d'onore e responsabilità per quanto riguarda rappresentare questa massima serie dopo più di 30 anni qui nella città di Pescara. Quindi siamo onoratissime e carichissime, soprattutto per la prima di campionato che avverrà l'8 ottobre. Vi aspettiamo numerosi al Palaroma di Montesilvano. Grazie. 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 Grazie.